Quando si entra in equilibrio con la natura si viene a conoscenza che tutto ciò che esiste e ti appartiene perché fa parte della stessa vita umana. Per me l'orto è fondamentale, è un punto di aggregazione dove ci ritroviamo felicemente tutti quanti e ci scambiamo le nostre opinioni. L'ortista viene per incontrare anzitutto degli amici, per parlare con loro, per scambiare anche i prodotti, per scambiare le piantine, per scambiare i semi perché si diverte e questa è la realtà che noi vogliamo vivere qui e che viviamo già da qualche anno. Ho una grande passione per la terra perché i miei indennati erano quasi tutti coltivatori e mi hanno insegnato. Poi ho avuto fiducia per la terra perché è una cosa che ci dà vita. Poi ho avuto fiducia per la terra perché i miei indennati erano quasi tutti i miei indennati erano quasi tutti i miei indennati erano quasi tutti i miei indennati erano quasi tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.